Sono Aila Del Ponte, ho 24 anni, vengo da Bignasco e sono un'atleta professionista. Ho cominciato a fare atletica nel 2009, molto per caso, proprio grazie a un UBS Kids Cup che abbiamo fatto alle scuole medie di Losone e dopo il risultato che ho fatto a scuola mia mamma si è detta ma perché non provare a iscriverti in una società di atletica ed è così che mi sono iscritta all'USA Scuola. Come sportivi vivere nella regione di Ascona Locarno è un vantaggio perché in primis abbiamo il centro nazionale dello sport qui a Tenero che ci permette di venire ad allenarci nelle migliori condizioni ma abbiamo anche tutte le caratteristiche della natura che ci permettono di fare gli allenamenti fuori pista, per esempio io vado spesso dietro la Siberia a Losone per fare le salite. Per me la regione di Ascona Locarno è sinonimo di casa, ogni volta che torno a casa sto bene quindi so che tornerò e c'è il sole e essere ambasciatrice di questa regione per me è un grandissimo onore e poterla portare nel mondo è uno dei miei obiettivi anche perché secondo me è uno dei posti che bisogna far conoscere alla gente. Penso anche che la regione abbia il vantaggio che abbiamo un clima mite e quindi per noi sportivi è perfetto perché ci permette di allenarci lungo tutto l'anno in condizioni non siderali ma mediterranee. Conciliare studio sport è sempre stata una sfida per me ed è una di quelle cose che mi ha sempre permesso di provare ad eccellere in entrambi i campi e è necessaria tanta organizzazione però anche passione per entrambe le cose che si fanno. Non ho molto tempo per praticare altri sport purtroppo, una cosa che mi piace fare è andare a fare passeggiate e una cosa che mi piacerebbe fare in futuro è andare a scalare. I sogni per il futuro sono tanti, a livello sportivo sicuramente continuare a divertirmi come sto facendo in questo momento e poi per il futuro dopo la mia carriera sportiva ci sono tante porte aperte. L'estate è un bellissimo momento per venire nella regione soprattutto perché offre tanti eventi culturali soprattutto ad esempio in Piazza Grande a Locarno abbiamo Moon and Stars e il Festival del Film ed è proprio per questo che è uno dei miei momenti preferiti per stare a casa. I miei modi per rilassarmi sono di solito passati in famiglia, mi piace andare a fare una passeggiata in Piazza d'Ascona oppure andare a trovare i miei nonni a Vignasco. I giochi olimpici sono alle porte, l'estate si sta avvicinando a grandi passi e dopo i risultati che ho avuto quest'inverno sono speranzosa di potermi ripetere a Tokyo. Il mio consiglio ai ragazzi che si apprestano a fare sport è quello di continuare a fare tutto con passione. Io ancora oggi, dopo quasi dieci anni di atletica, continuo ad amare tantissimo il mio sport e quindi quello è la chiave per ogni successo. Un saluto a tutti gli amanti della nostra bellissima retina.